Ebbene sì, cari ascoltatori, vogliamo essere ormai una radio che si occupa a 360 gradi dell'attualità e purtroppo tocca anche dare notizie non sempre belle, anzi a volte delle vere e proprie notizie che fanno orrore. E oggi qui a Radio Pugino NER affronteremo un tema di una gravità inaudita, una tragedia che ha scosso l'intera comunità, la strage di Altavilla, milicia e i misteri che la circondano. La storia inizia con una telefonata al centralino dell'arma, una chiamata che fa gelare il sangue. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi. Queste le parole dell'uomo, freddo e pacato, prima di chiudere la comunicazione. Mentre una pattuglia si dirige verso l'omicida, un'altra si reca nella casa di Altavilla, milicia, il palcoscenico di un'atrocità indicibile. I carabinieri si ritrovano di fronte ad una scena raccapricciante. I corpi di due figli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16, ritrovati nei loro letti, soffocati e legati con delle catene. La madre, Antonella Salamone, è stata uccisa dal marito e il suo corpo bruciato e sepolto. Un atto di violenza incredibile che non riusciamo davvero a trovare le parole per definire. Un'atrocità crudele e impensabile che ha lasciato tutti davvero senza parole. Ma la dinamica di questa strage è ancora avvolta nel mistero. Giovanni Barreca, l'assassino, non è l'unico coinvolto nelle indagini. Emergono nuovi dettagli su una coppia di conviventi che avrebbe conosciuto Barreca in una chiesa evangelista a Palermo. I carabinieri sospettano che insieme abbiano organizzato il delitto, convinti di purificare la casa dal demonio. Tuttavia, questa è solo un'ipotesi e le indagini sono ancora in corso, guidate dai magistrati della procura di termini merese. Ma quali potrebbero essere i motivi dietro questo orrore? Barreca, muratore di 54 anni, sembra aver parlato spesso di presenze demoniache, accusando la moglie e i figli di essere posseduti da Satana. Una vicina di casa ha raccontato che Barreca aveva manifestato paure irrazionali, arrivando persino a scrivere messaggi sul diavolo e temendo per la sicurezza dei suoi gatti. Inoltre, emerge anche la testimonianza della moglie, che aveva confessato le violenze subite da Barreca. La coppia, trasferitasi in Sicilia cinque anni fa, sembrava avere una vita apparentemente normale, ma dietro le apparenze si nascondevano violenze e deliri mistici. Il sindaco del paese ha sospeso tutti gli eventi organizzati per il carnevale e indirà il lutto cittadino nel giorno delle sequie, mentre i parenti della vittima arrivano in paese per cercare di comprendere come sia stato possibile un simile tragico epilogo. Barreca, sulle sue pagine social, dava segni evidenti di squilibrio definendosi un soldato di Dio e condividendo salmi e passi dei Vangeli. Sul delitto, aleggia l'ombra di una setta avvalorata dalle parole del pastore evangelico del paese. Tuttavia, al momento, sono molte le incertezze e gli investigatori cercano di ricostruire il puzzle di questa terribile tragedia. Resta la costernazione e lo sbigottimento dei vicini di casa che si interrogano su come sia stato possibile che una situazione così drammatica si sia sviluppata senza che nessuno intervenisse. La verità è che spesso ciò che avviene dietro le porte chiuse rimane nascosto fino a quando non è purtroppo troppo tardi come vediamo in tantissimi casi di cronaca. Questa è una storia di dolore, di violenza e di mistero. Continueremo a seguire gli sviluppi delle indagini a cercare di comprendere ciò che è accaduto. Restate con noi su Radio Puginioner per ulteriori aggiornamenti su questa storia che ha scosso l'anima di tutto il paese. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima puntata di Radio Puginioner.